finale 83 kg sono di fronte con la cintura rossa Valentino Fioravante Universal Center Napoli un atleta che riprende dopo cinque anni di inattività per problemi personali ecco la cintura blu abbiamo di fronte un attimo Morini Fabrizio sapevo il cognome ricordavo il nome di Fabrizio canate Nakayama Brescia si presenta con la medaglia di bronzo Morini del 2009 un settimo posto 2011 e mentre ripeto l'atleta Valentino Fioravante riprende dopo cinque anni dove si è presentato col primo posto agli Open di Campania gara disputata in dicembre e si porta subito in vantaggio dopo 30 secondi con una tecnica di gamba al busto alla schiena avete visto quindi 2 a 0 vediamo se Fabrizio Morini riuscirà a raddrizzare subito il combattimento o se nulla di fatto no niente di fatto perché solo un arbitro ha segnalato con la bandierina quindi 2 a 0 3 minuti e 10 al termine con Fabrizio Morini che deve provare a capire che tipo di difesa ha Fioravante perché per ora non si è visto eccolo qua al primo tentativo d'attacco tentativo di proiezione nulla di che si allontano i due atleti un minuto e dieci è passato sempre 2 a 0 una finale tutta nuova con due atleti che non erano presenti nella finale dell'anno passato quindi inaspettato anche quale sarà il risultato finale perché per ora sta tenendo molto bene Fioravanti Fioravanti anche tentativi sono stati sempre gli stessi con la stessa tecnica di gamma perché ha funzionato quindi ci riprova 2 a 0 al viso e calcio però mi sa che sarà richiamato per un contatto eccessivo un atleto va a chiedere subito scusa perché non era sua volontà non controllare quindi primo richiamo per controllo quasi metà del tempo è andato siamo sul 2 a 0 ci prova naturalmente Fabrizio Morini a ribaltare o a iniziare a avvicinarsi al risultato del suo avversario gli viene data viene data un'ammunizione per c2 a Morini metà in questo momento due minuti al termine sempre 2 a 0 per Valentino Fioravanti che mi dà l'idea di gestire in maniera buona diciamo il suo risultato e Fabrizio Morini che sta cercando comunque indubbiamente di provare cosa per ora la tecnica preferita da Valentino Fioravanti è quella tecnica al busto con la gamba lo sta portando lo sta conducendo al titolo italiano assoluto 2012 Fabrizio Morini vedo in difficoltà perché non riesce a trovare la bandola della matassa per tirirne fuori da questo combattimento perché Valentino Fioravanti in maniera molto molto con certa maestria elude gli attacchi del suo avversario con spostamenti finte poi con attacchi tipo questi sterili che non hanno lì vera convinzione di far punto ma di allontanare l'altro 47 secondi al termine sempre 2 a 0 e ora è tutto in salita per Valentino per scusate per Fabrizio Morini il quale sarà richiamato sicuramente a tutti e due per un po' di passività al centro area anche a tutti e due sempre 2 a 0 il combattimento sta avvolgendo al termine 30 secondi al termine quindi sempre 2 a 0 per Valentino Fioravanti che è arrivato un calcio al viso un po' per colpa di di Valentino Fioravanti che non aveva la guardia sicuramente il non controllo da parte di Fabrizio Morini vediamo cosa giudicheranno gli arbitri nessuno si è mosso gli danno il contatto io secondo me poteva starci anche l'azione di Mubobi perché l'altro non si è assolutamente difeso comunque sono interpretazioni gli uffici di gara hanno una visione migliore della mia quindi aumenta l'incitamento dei sostenitori di tutti e due a tre secondi dal termine ma un secondo e Valentino Fioravanti contentissimo perché mi sa che è il suo primo titolo italiano di portare a casa questo risultato e finisce così vince Valentino Fioravanti contentissimo per questo risultato un po' amareggiato Fabrizio Morini che anche lui per la prima volta si affaccia alla finalissima e quindi campione italiano assoluto categoria 83 kg Valentino Fioravanti grazie 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 grazie